Signore e signori buonasera ben ritrovati al nostro consueto appuntamento settimanale questa sera richiesta vi parlo del cuore in alta montagna una domanda classica dei nostri pazienti cardiopatici è proprio quella dottore posso andare in montagna a quale altezza posso andare bene vediamo di mettere un po d'ordine primo cosa succede in alta montagna sui nostri organi ed apparati cosa fa l'ipossia ipossia vuol dire poco ossigeno cosa fa dicevo l'ipossia ai nostri organi vediamo per quanto riguarda il polmone abbiamo un'iperventilazione respiriamo più di frequente il che comporta una vasocostrizione cioè i nostri vasi si stringono il cuore aumentano i battiti tachicardia e aumenta anche la pressione arteriosa i reni poliuria aumenta la quantità di urina che elimineremo nelle 24 ore così come possono comparire edemi periferici edemi vuol dire gonfiore alle camiglie quello che quando comprimiamo col dito resta il segno per quanto riguarda infine l'encefalo il cervello c'è un aumento dell'attività cerebrale e tutto questo comporta dei sintomi quali sono i sintomi allora facciamo un ragionamento in termini di altitudine a 2000 metri un soggetto può avere un leggero mal di testa è quello che comunemente ho detto mal di montagna ma ovviamente il mal di montagna è un'entità ben precisa noi parliamo di sintomi che possono comparire quindi 3000 metri insonnia ma anche nausea vomito disturbi respiratori se poi passiamo a 3500 metri mancanza di fiato dispnea disturbi gastroenterici pensate anche l'apparato gastroenterico è coinvolto in questa ipossia importante abbiamo detto 3500 finché arriviamo ai 5000 metri dove si può avere letargia stanchezza generale sensazione di doversi addormentare per forza e chiaramente queste sono i livelli 5000 metri massimi consentiti per residenti in quota naturalmente non è il nostro caso fino ai 6000 ed oltre metri dove si arriva a un imminente collasso se non si interviene allora questi sono sintomi che possono comparire in conseguenza ad alterazioni legate alla ipossia alla mancanza di ossigeno ai nostri organi ed apparati quindi veniamo al pratico cosa dire ai nostri cardiopatici beh innanzitutto va stimato il rischio individuale e va eventualmente personalizzata la terapia se c'è una terapia in corso come spesso capita allora dopo un infarto possiamo andare oltre i 2000 metri stabilizzato sì recente mai la pressione è elevata cioè uno che ha è iperteso e sicura per quello e attenzione perché gli sbalzi di pressione abbiamo detto che aumenta può portare a ischemia cerebrali fino all'ictus quindi va verificata la terapia dopo un ictus dopo qualche mese dall'ictus ci si può muovere andare in montagna ma attenzione il cervello è avido di ossigeno quindi attenzione all'ipossia come dicevamo ancora lo scompenso cardiaco naturalmente ben controllato dalla terapia attenzione agli sforzi perché costano molto di più in altitudine e infine la fibrillazione atriale le aritmie non sono un problema basta tenere conto della terapia che è in corso ed eventualmente adattarla allora vedete che l'altitudine può creare effettivamente dei problemi ma non è una controindicazione assoluta attenzione non parliamo certo di altitudini di cui abbiamo parlato prima 3.500 4.000 5.000 sappiate che fino a 1.800 2.000 non ci sono assolutamente problemi dopo la questione va analizzata caso per caso quindi vogliamo andare oltre quei 2.000 metri allora ricordiamocelo primo un controllo medico cardiologico preliminare che ci dica se siamo stabili pur nell'ambito di un'eventuale patologia secondo salire con gradualità è importantissimo terzo dormire se possibile a quote più basse rispetto a quello dove siamo e infine limitare le attività fisiche consumare meno benzina perché a quelle altitudini non ce ne abbiamo da sprecare quindi ripeto prudenza oltre i 2.000 metri e valutazione caso per caso della patologia in quel soggetto grazie buonasera grazie a tutti 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 grazie a tutti